Per la quinta giornata di eccellenza allo Stadio Cipriani di Raiano si affrontano Nerostellati e il Delfino Flaccoporto. In campionato Pratolani, reduci da tre risultati utili consecutivi, frutto di una vittoria e due pareggi, mentre i pescaresi si presentano imbattuti al confronto di Erno dopo aver raccolto un successo e tre pari andando sempre in gol. I Nerostellati si presentano in campo con una prima linea formata da Pontarelli al centro oltre che dagli esterni Moscone e Palombizio. Dall'altra parte il Delfino Flaccoporto si schiera con Alberico, Marzucco e Tinemori in avanti evidenziando una buona tenuta del campo per tutto l'arco della gara. Decisamente un buon inizio per la formazione pescarese, pericolosa con Gobbo che trova la pronta risposta di Amo. Il punteggio si sblocca al sesto quando Falco entra in area dalla sinistra e mette in mezzo un pallone che trova la correzione vincente di Marzucco al suo quarto gol in campionato. Subito il gol, i Nerostellati impiegano circa un quarto d'ora per rendersi pericolosi dalle parti dell'ex parente, sull'invito di Giallonardo e Pontarelli a perdere l'attimo fuggente. Alla mezz'ora si rivedono gli ospiti ma la punizione di Silvestri non è di quelle che fanno male. I Nerostellati faticano a trovare il corridoio giusto e il ricorso ai palloni alti non da risultati apprezzabili sull'asse Schirone-Pontarelli. Il Delfino legittima il vantaggio con l'occasione che Silvestri non riesce a tramutare in raddoppio prima di rischiare sulla conclusione di Schirone deviata in calcio d'angolo con qualche apprezzione per il portiere ospite. In avvio del secondo tempo i Nerostellati ci provano con l'infruttuoso colpo di testa di Palombizio mentre al 52esimo la squadra di Bonati va vicina al raddoppio con Falco. Il Delfino interpreta bene la gara e poco dopo è l'estremo difensore Amo a salvare su Currim. I diversi cambi dall'una e dall'altra parte non producono effetti sull'andamento di una gara comandata dal Delfino Flaccoporto che rischia soltanto sulla conclusione fuori bersaglio di Schirone prima del raddoppio firmato Currim al 79esimo minuto. I pescaresi non si accontentano e sfiorano anche il Tris con Teraschi che però trova il palo a respingere la sua conclusione. Al novantesimo cartellino rosso rimediato da Di Ciccio sostituito 8 minuti prima e reo di qualche parola fuori luogo. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale. Esulta il Delfino Flaccoporto per una vittoria meritata che fa il paio con l'imbattibilità portata a 5 giornate. Musilunghi in casa nerostellati al termine di una gara giocata male e finita peggio dalla squadra di Mr. Lorè. Nel secondo tempo ha provato anche a cambiare volto tattico la sua squadra ma sono stati sempre così pochi palloni arrivati lì davanti. Sì ma ho provato a cambiare modulo ci siamo messi a tre dietro ma ero cosciente delle condizioni psichiche, psicofisiche della squadra. Non ci siamo mai stati. Oggi è una partita da dimenticare, è una brutta pagina. Dico che dobbiamo lavorare anche nel rispetto di chi ci è venuto a vedere. Dobbiamo continuare a lavorare, non possiamo mai abbassare la guardia. Avete concesso davvero poco ai nerostellati, l'avete sbloccata subito, avete legittimato il vantaggio e l'avete portata a casa meritariamente. Un collettivo che funziona, uno spartito seguito molto bene dalla vostra squadra, spartito dettato a Mr. Bonati. Assolutamente. Aggiungo che oggi secondo me siamo stati bravi a chiudere la partita, cosa che non è avvenuta nelle altre partite. Abbiamo un po' sofferto nel finale e ci hanno sempre rimontato ma siamo stati bravi a chiuderla e quindi ci godiamo il momento.